Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella pericata nutelle amaretti. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono amaretti, farina di tipo 00, zucchero, uova, latte, olio di semi di arachidi, vanillina, lievito per dolci, sale, nutella e amaretto di saronno. Andiamo a dire una ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e gli amaretti. Li facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova, l'olio, il latte, la farina, il lievito, la vanillina, l'amaretto di saronno che è facoltativo, e il pizzico di sale. E versioniamo i bimbi per 3 minuti a velocità 5. Trasferiamo metà del composto in uno stampo a ciambella del diametro di 22-24 cm, unto con lo staccante per teglie. Nell'altra metà del composto aggiungiamo la nutella ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Versiamo il composto sulla parte bianca. Adesso con l'aiuto di una forchetta andremo a variegare la ciambella. poi c'è l'inforno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. la ciambella variegata, nutella e amaretti. Grazie e alla prossima ricetta! La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!